Bella a tutti ragazzi, noi siamo i Giacchini, molto patini e molto carini. Io sono Giacarco e io sono Giacchino, volevamo scusarci per la lunga ed estenuante attesa, noi siamo sempre con voi, non vi dimentichiamo, siamo stati un pochettino assenti per vari problemi lavorativi, come sapete io vado al lavoro, lui ancora va a scuola, quindi pure i compiti e quindi abbiamo trascurato un po' il canale, però devo dire la verità ci sono mancati molto. Volevo ringraziare pure una persona di nome Carlo, che si è iscritto al nostro canale, perché sto nominando Carlo? Perché è una delle poche persone che noi abbiamo conosciuto e abbiamo visto che si è iscritto sotto i nostri occhi. Nonostante questo, volevamo dirvi che ora faremo un bel video, ci sarà pure un ospite speciale, lascio la parola al mio collega e amico Giacchini, prego. Buonasera a tutti ragazzi, veramente ci scusiamo per la tanto attesa, giusto per la tanto attesa, però purtroppo come ha detto il mio amico Giacchini, però purtroppo come ha detto il mio amico Giacchini, abbiamo avuto troppi impegni lavorativi ragazzi, siamo stati giornate a lavorare, veramente. E sono contento di fare i video insieme con il mio amico Giacchini, 8 anni di amicizia e abbiamo pensato di fare i video solamente quest'anno ragazzi, cioè non ci abbiamo pensato due anni fa o l'anno scorso, quest'anno. Ma il motivo è questo, io l'anno scorso non potevo fare video perché avevo troppe cose da fare e inventavo sempre scuse il mio amico, comunque questa sera è una serata molto importante per noi Giacchini, qui stasera in diretta al nostro canale ci sarà un ospite incredibile. No, non sono gli ospite ragazzi, non sono gli ospite, un ospite incredibile, vieni qua, ciao a tutti, io sono Francesco, vengo da Palermo a 17 anni, sono uscito i miei alcolisti, comunque, carissimo Francesco, cosa vuoi dare il nostro pubblico, cosa vuoi dire? Questa sera sono con voi due, grandissimi, mi presentano e quindi sono felice di stare con voi, attivate la campanella, mettete like e in basso al testo. Ho l'ammazzato, l'ammazziamo ragazzi, scrivete nei commenti, scrivete nei commenti se volete che l'ammazziamo. Bene ragazzi, questa sera noi volevamo dirvi solamente due cose, perché non è un video tanto tanto lungo, è un video corto, però con cose molto importanti. Andiamo un video pure per farvi notare che noi siamo sempre presenti e che a voi vi portiamo nel cuore ragazzi, nel cuore.